Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi farò un video di Minecraft A differenza delle altre volte che ho fatto video diversi Per iniziare voglio creare un nuovo mondo E farò una piccola survival Sistemo tutto e dovi al mondo Ok sono entrato nel mondo e intanto guardiamo Cosa hanno messo nella cassa Ah, ok Comunque io è dato tanto che non ci giocavo a Minecraft Quindi sinceramente non so quali sono le nuove cose che hanno aggiunto Tutto Ho proprio da quel tempio che ho visto oggi in fondo Ok sono arrivata adesso guardo Più o meno cosa c'è dentro E provo A prendere qualcosa senza morire male Perché sì Adesso guardiamo cosa c'è nelle casse Poi dopo se mai ditemi nei commenti Se volete altre serie di questo tipo E intanto ho già l'inventario pieno Ho preso un po' di cose Quindi adesso In lontananza mi pare di aver visto un villaggio Sì e ci vado Così magari mi campero un pochino Anche se questo Ok sono arrivato al villaggio E niente Proverò a trovarmi una casa Ok Ok Faccio finta di niente Poi è la prima volta che vedo i casi proprio così su Minecraft E Niente E niente E mi piace molto questo Nuova mod Praticamente Vabbè questo nuovo aggiornamento Ciao Quindi proverò a trovarmi una casa Abbastanza grande Ci vediamo tra un po' Ok io ci provo a saltare da qua Yeee Ok sono ancora viva Wow Non so se scegliere questa casa Perché sinceramente non mi convince nessuno Vabbè se a me mi faccio una tana per questa notte Oppure campero in una casa normale Tipo questa Che mi piace anche abbastanza Sì Questa mi piace Sono trovate Provo a fare il parkour anche se non c'è Ok non posso arrivare qua Sì Guarda per adesso prendo questa casa Che è la più decente che ho visto E c'è un gattino Quindi Mi accontento di questa Continuiamo Quattro minuti Ok Mi sono svegliato Ho dormito in una casa normale Quindi Secondo me Mi faccio una specie di mini casa da Noob Et viva là Sì Mi piace un sacco come idea Perché colbo Non trovo niente di interessante Vado a scassinare le case degli altri villager Così magari Io non so fare i ponti Trovo Qualcosa Adesso se mi ricordo come si fanno i ponti Provo a farne uno Ok ho preso il minimo indispensabile per fare una casa Più o meno decente Adesso andrò A sistemare le cose Che ho preso Dove l'ha Certo Ma Dove l'ha Certo Vabbè Ah Ok Va bene Ok Se non frega Non entra l'auto Ok Questo primo video di minecraft Di qualsiasi gioco Finisce qua Scrivetemi nei commenti Se questo video vi è piaciuto E se ne dovrei Portare altro Qui Scrivetemi nei commenti Scriviti